432 milioni di euro per i prossimi 7 anni e questa la cifra che verrà distribuita in Abruzzo per il piano di sviluppo rurale, una grande conquista per la regione che vede crescere significativamente la quota dei PSR nell'arco degli ultimi 14 anni. Ieri abbiamo avuto l'adozione ufficiale del piano di sviluppo rurale 2014-2020. Entro l'anno pubblicheremo i primi bandi innanzitutto riservati ai giovani. I giovani saranno accolti nella nuova comunità agricola regionale e poi tantissime altre misure e opportunità per tutto il comparto agricolo regionale. Le categorie di intervento individuate per l'Abruzzo comprendono investimenti materiali, insediamento di giovani agricoltori e sviluppo nuove attività extraagricole, servizi di base per aree rurali, investimenti forestali, formazione e consulenza. Le misure più importanti, oltre ai giovani, riguarderanno la competitività delle imprese, lo sviluppo delle micro e micro filiere, la gestione del territorio, le acque, la viabilità, una serie di opportunità e anche di grandi situazioni positive per la nostra comunità agricola regionale, a partire dall'aggregazione, dalla cooperazione, dallo sviluppo rurale nel suo complesso. Quali restano i settori trainanti per l'Abruzzo? Sicuramente il settore del vino, il settore dell'olio, ma ci sono anche tantissime altre opportunità previste nel PSR. Innanzitutto la zootecnia, sia da carne che da latte. Dobbiamo ripristinare con successo i grandi successi del passato della zootecnia regionale e all'interno del PSR ci sono opportunità, misure e soprattutto dotazioni finanziarie necessarie per riprendere questo percorso. Innanzitutto la zootecnia regionale